8 7 4 Vale, come sono andate le prove? Molto bene, ma non è ora che ti vesti? Sì, è vero, è tardi! Marti, il vestito! Sì, sì! Scusate, scusate, ma... Comagnà stasera? Comagnà stasera? Beh, siamo sempre noi, eh? Confermi? No, non siamo noi! Io sono la pettina buona! E io sono il Leo! Ma questa sera siamo in compagnia! Mamma mia! Guardate qua che spettacolo! Ma da dove è sfocato? Mamma mia che proncio che c'ha questa! Ma chi è questa qui? Io mi ordino di cucinare per me! Oh madonna mia! Voi tutti schiavi! Eh, che paura! Io non ho un cefello! Eh, non mi ripeto niente! Eh, allora non mangerai se non mangia un bello! Ma pensi a Emma, mi ha detto che la minestra è molto buona! No, no! Stasera decido io che sono la pettina buona! Ah sì? Allora io proporrei di fare dei... Possiamo fare per esempio degli gnocchi? Vuoi delle tagliatelle? Tu cosa vuoi? Un po' di pasta? No! Io farei della carne! No! Io farei un po' di altro po' Io farei un po' di insalare! Io farei un po' di insalare! Che bravo! Che bravo! Cosa vuoi? Cosa vuoi? Ah no! E fermi tutti! Ci penso io! Spera faremo dei ravioloni arcobaleno! Avete capito tutti quanti? Tortellini arcobaleno! No! Ah! Ravioli arcobaleno! Ravioli e tortellini! Ravioli? Ravioli! Perché guardo qui? Che caldo! Allora! Oltre l'arcobaleno guarderemo! Dove? Oltre l'arcobaleno! E allora... mettate questa! Oltre l'arcobaleno! Un applauso per tutti! Ma riusciamo a spiegare cosa stiamo facendo? Stasera presentiamo la nostra fantastica compagnia di musical del Teatro Portone che a breve rifarà lo spettacolo di Il Mago di Oz. Ah, basta siamo vestiti così noi, truccati! Io credo il re leone, scusa. Allora, perché Arcobaleno? Perché la canzone, il tema portante di Il Mago di Oz era Perché la nostra Dorothy va oltre l'arcobaleno per incontrare i suoi amici. Ma noi andiamo tutti oltre l'arcobaleno. Ma cosa potevamo fare di arcobaleno? La nostra regina ha pensato bene di creare... In questo caso, fatina. Pasta a Arcobaleno. Pasta a Arcobaleno. Abbiamo tre tipi di impasti fatti. Questo con gli uova e spinaci, farina e uova e qui barbabietola e farina e uova. Quindi, andiamo a stendere la pasta. Va bene. Questo è il mattobaleno. Iniziamo da questa, direi. Prego Mary Poppins. Questo giallo mi ricorda qualcuno. Sì. Vado? E dai, aspettiamo te. Ci metti un po' di farina? Allora. E di cibi. Se no si attacca. Era pratica lei. Allora, schiaccia e vai. Oh, ma vedo che Mary Poppins tutto il giorno fa sempre la pasta. Ma certo. Bravissima. Allora, si gira di un quarto d'ora e vai. Come un quarto d'ora? Ah, di sì. Sì, grazie assistente. Certo. Li faremo tutte e tre in questo modo. Quindi faremo una sfoglia super colorata. Esatto. Benissimo. Non te hai il maio, il mitico maio di Oro. Silenzio. Vedrai, vedrai, vedrai. Quando è che si mangia qui? Eh, è un minuto. Allora, abbiamo steso, guardate che sfoglia meravigliosa che ha fatto. Mary. Bravissima. È proprio un arcobaleno. E adesso ci facciamo dei tortellini? No. Dei ravioli? No. Delle mezzelune? Sì. Oh, via, dai. Avanti. Allora, aspetta, giriamo la pasta da questo vennezzo e poi facciamo tanti, tanti cerchi con questo coppapasta. Ah, brava Mary, brava Mary, un altro vicino. Bravissima, uno. Allora, riempiamo così, così. Uno, due. Vai. Mamma mia. Sì. Hai fatto sempre il tuo lavoro vivo. Bravissima, Mary, Poppins. Saranno molto contenti i tuoi bambini. Ci siamo? Ci siamo? Fa vedere. Adesso lo pigliamo a metà. Bravissima. Guardate. Che magia che ha fatto Mary, Poppins. Oltre l'arco. Fa un centinaio, coca. Perché uno mangia poco. Basta un poco di zucchero. Ma che zucchero? Questa è farina. Che zucchero. Farina. Il leone, il leone, il leone, il leone è svegliato. Il leone è svegliato. Ma più si sveglia. E raro. Bene, adesso? Adesso li cuociamo. Li cuociamo e prepariamo una stasera. Fermi, 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 fermi. La magia è fatta. Eccola. Quindi, tortelli? No. Ravioli? No. Mezzelune? No. Tutto! Ah, ecco, tutto! E anche questo bellissimo sole. Guarda. C'è il sole che splende con l'arcobaleno. No. Ah no, scusa. Leone! Buttiamo tutto in acqua. Abbiamo fatto una magia. Io Mary Poppins, malgrado il leone. Quello vuole quella? Che sveglia? E le ore dell'interno, no, aspetta. Questa sera c'è i ragazzi lì. Anche un pochino Bob. Bob? Ah, come va. No woman, no cry. Allora. Questa... Salsina, come è stata fatta questa salsina? E non rinzi, è proprio. Ah. Come dici tua madre. Questa salsina, come è stata fatta? È stata fatta bene. Allora? Burro. Tagliata, tagliata. E? Burro parmigiano. Oh, leone. Dai, eh. Oh. Partiamo da qui? Un po' di parmigiano. Aggiungiamo un po' di parmigiano. Lei, Mary Poppins, un po' di parmigiano. Io aggiungo. Questi capelli che oggi sono stati nella parrucchiera. Vogliamo fare dell'auto? Vogliamo togliere? Vogliamo togliere? All'improvviso? No, no. Allora, amici di Comania stasera. Abbiamo scherzato, abbiamo fatto gli stupidi. No. Ma ci siamo disanditi. Ma l'hai fatto a te lo stupido? Noi no. No, no, parola. In ogni caso la ricetta la vedete sotto. Gli ingredienti. Abbiamo fatto delle mezze buone, tardi qua. Con degli gnocchi, con delle cose, beh? E niente, noi ringraziamo questo bellissimo pubblico e questi bellissimi personaggi che tu potresti anche presentare. Io conosco solo lei perché lei, non penso ancora, perché ha studiato uno po' di chitarra con me, che è Martina Carrera. Applauso. Abbiamo la screta cattiva, Alessia. Un altro spaventapasseri, Monica. E all'occorrenza anche altro. E la vostra fantastica Dorothy. Yeah! Martina! Dai Comania Studios. E tu? Cosa volete? Posso fare un annuncio? Dobbiamo dire anche la Francesca Landi e la Giovanna Diamantini? No, no. No, non è quello, no. Non è vero. No, Francesca Landi. No, però volete venire a mangiare. È quello che vuoi fare? Ma la Francesca Landi e la Giovanna Diamantini ti aspettano il 20 dicembre alle ore? Ore? 21. 21. al dentro portone con il Mago di Oc e allora adesso è magma adesso mangiamo però ciao buon divertimento venite, venite, non mancate